Scott Go Dojo ha aperto le porte a tutti gli studenti e i loro docenti per poter effettuare didattica a distanza, il che vuol dire che se lo richiediamo avremo una licenza per 100 utenti da utilizzare gratuitamente fino alla fine di agosto 2020. Andiamo sul sito scottigo.com e leggiamo le istruzioni. Sarà possibile stampare i blocchi di programmazione in formato speciale e utilizzarli con l'app gratuita. Questo ci permetterà di raggiungere i nostri studenti i quali potranno fare esercizio di coding e avvio al pensiero computazionale costruendo gli algoritmi di Scott Go con le tessere cartacee che hanno scaricato. Come ottenere la licenza? gratuita. Si dovrà scrivere a contact-bicreo.com per avere le informazioni e la chiave della licenza. Nel giro di 48 ore riceveremo la risposta. Ci verrà data la chiave, cioè il codice, per avere la licenza gratuita e poterla attivare. Basterà registrarsi poi sul sito scottigo platform e creare il nostro account. Quindi creare la classe una volta inserita la chiave di licenza avremo a disposizione per ogni chiave di licenza ben 100 profili utente. Scarichiamo poi l'app di Scottigo Dojo sul nostro device e chiediamo di fare altrettanto ai nostri alunni. Condividiamo con i nostri alunni i dettagli del loro login. Loro potranno accedere al loro profilo studente o inquadrando il QR code che noi invieremo o entrando con le proprie credenziali. Sarà possibile inviare questo codice tramite mail oppure caricarlo sul registro elettronico. Chiediamo ai ragazzi di stampare i blocchi per costruire l'algoritmo. Sono stati previsti in due dimensioni, quella regolare e la dimensione più grande adatta agli studenti più piccoli. È opportuno una volta stampati i blocchi di programmazione incollarli su un cartoncino per renderli un po' più robusti e fare attenzione a ritagliarli bene altrimenti si corre il rischio di non riuscire a leggere il codice inquadrandoli. Possiamo a questo punto iniziare a far lavorare i nostri bambini con l'app. È possibile scaricare un manuale in formato pdf in lingua inglese dove sono illustrate tutte le missioni che i nostri alunni saranno chiamati a svolgere. È possibile visualizzarle anche inquadrando il QR code. Possiamo scaricare poi i blocchi e un secondo manuale con tutte le istruzioni sempre in inglese per scaricare l'app, attivare la licenza e poter creare il gruppo classe. Grazie. Grazie.